presentati buongiorno a tutti mi chiamo Milenia Dottavio ho 16 anni e vivo a Caminago di Brianza cosa fai nella vita? faccio la ballerina faccio anche una scuola di musica, arte e spettacolo sono a Milano quindi se volete venire a trovare trovatevi sei mai esibito in pubblico? sì, ho fatto molte gare, ho fatto anche qualcosa su MTV e forse un paio di pubblicità se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? mi piacerebbe fare molto la ballerina lavorare nel mondo dello spettacolo se si può anche nei musical, nelle pubblicità e se è anche nei film proprio un po' tutto oggi vi presenterò un pezzo di coreografia piccolo un assaggio diciamo di contemporaneo di contemporaneo di contemporaneo Grazie a tutti. Grazie a tutti.